Teramo e la politica abruzzese piangono la scomparsa di Giandonato Morra, esponente di rilievo della destra cittadina, fu anche assessore regionale e candidato a sindaco. Morra, che vedete in queste immagini di repertorio, si è spento nella notte all'ospedale Mazzini di Teramo dove è stato ricoverato per l'aggravamento di una malattia contro la quale combatteva da tempo. A Teramo è poi in regione stato per la componente di destra consigliere ed assessore comunale e regionale, sempre con Gianni Chiodi. Dopo la sconfitta alle comunali nel 2018 per mano di Gian Guido D'Alberto venne nominato difensore civico regionale.